cari amici sono ester e questo è il canale dedicato ai miglioramenti uno spazio per tutti noi che parla di temi che ci permettono di migliorare la nostra vita a piccoli passi quotidianamente di cosa parliamo in questo canale si parla di programmazione neurolinguistica come possiamo individuare e cambiare i nostri modelli mentali per migliorare parliamo di ipnosi uno strumento a disposizione del nostro benessere della nostra felicità della nostra crescita parliamo di morfo fisiognomica ovvero come il tuo corpo il tuo volto raccontano la tua storia sia biologica che morale parliamo ancora di psicologia quantistica ovvero andare all'origine del sé e magari scoprire che tutto quello che pensiamo di essere non siamo ma siamo molto di più e ancora mesmerismo il magnetismo animale la via della presenza la presenza a se stessi e ancora enneagramma profili psicologici nove modi di pensare di essere di agire di ragionare nove possibilità di te e ancora affermazioni positive pensiero positivo terapia della luce come la luce può influenzare la nostra mente dandogli un'accelerata incredibile e ancora mazdasnan piccole comunità che rischiano di estinguersi ma che in realtà mandano avanti una tradizione molto preziosa in termini di crescita ed evoluzione dell'essere umano cari amici in questo canale curiosità idee spunti riflessioni per poter per poter scoprire qualcosa di più di te per andare oltre te e verso te buona navigazione